buongiorno a tutti ragazzi buongiorno it's dark buongiorno grazie per il follow amico chips grazie per il follow eh si grazie per il follow buongiorno che vuole sto bot che hai scritto ciao alitrack buongiorno il bot cancella le scritte adesso vi dico il bot cancella i messaggi doppi cioè previne lo spam ok quindi previne lo spam cancellando i messaggi doppi poi esplico subito cosa è moderation ecco spam protection modera le parole blacklistate i simboli e messaggi ripetuti attualmente sono l'unico però a poco viene fate però anche lui live quindi se qualcuno non vuole farlo in live è fregato perché ciao david06 mi ha scritto cuore arancione e bianco prova a mandarmi un emoticon eh l'unico tu vieni a te the whitelist valutiamo la tua voce e poi vediamo se sei pronto se ne so ah intanto direi di iniziare farò solo un'ora di live ragazzi solo un'ora giusto fino alle una perché ho proprio pochissimo tempo lo so fare così 40 minuti cos'è scritto ora? ops che è scritto ora? eh amico chips andiamo a togliere il sospensio andiamo a togliere il sospensio andiamo a togliere il sospensio amico chips perché non so come si faccia ok ok annullata la sospensione grazie per il follow Alessandro al 10 benvenuto bom vediamo posti qua gialli che ci stanno che stanno sparendo uno dopo l'altro grazie per il follow Friari benvenuto questo è il background corto lo sposto ciao mi senti? mi senti? sì ciao guarda devi impilare il background deve essere più lungo di 2000 caratteri perfetto a posto ciao amico chips però eh se continui a far sospendere io non posso annullare la sospensione ogni volta non ripetere messaggi non fare spam di lettere che botta un po' così un po' quello che vuole questo 18 anni 3 mesi che fa la che fa rp vediamo oh grazie per il follow fake Leo benvenuto grazie per la visione grazie per la visione ecco mettiamo questo piccolo goal oggi vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a ai follow del giorno 20 follower mettiamo hai paura di inattesa di track va bene è normale però devi passare poi vedrai che va tutto bene grazie per il follow salvatore come va tutto bene ho fiari tutto bene tu da rischio mi sono riuscire se hai detto a mi ecco ti ho scelipato all'altro di essere che non posso vedere nulla dopo fake Leo buongiorno buongiorno vediamo un po' questo qua e questo qui questo qua deve ampliare il background lo spostiamo ciao buongiorno buongiorno perfetto quante paure di staff severia buongiorno 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 quanti anni siamo per fare la WL punto schermativo WL Peppe punto schermativo whitelist e scrivere punto schermativo whitelist whitelist fake Leo non si sente l'audio di S si lo so perché lo muto quando ci sono quelli da rimandare così veloce perché così abito di brindere magari magari dicono parole bannabili no whitelist non whitelist whitelist è normale ragazzi è normale 8 ore regolamento di perro perfetto ce lo stiamo a questo ciao ciao mi senti buongiorno mi senti mi senti buongiorno si or si or mi senti si or di non ti sento basta quando sistemi però il microfono perfetto niente rimandato deve sistemare i problemi con il mic allora fk panguele perché non mi ha scritto neanche niente va bene se ho 15 anni ho la voce bianca se la voce è bianca non penso provo a entrare vedremo grazie di follo fn fabbro benvenuto che plugin usi discord eh andiamo un bel po' dopo magari vi faccio la lista grazie salvatore grazie no punto esclamativo whitelist distruttore basta che fate punto esclamativo comandi e vedete tutti i comandi ragazzi fate punto esclamativo comandi guardate troverete le whitelist tutti i comandi che potete fare provateli tutti mi raccomando non c'è un minimo c'è un massimo solo io so sposto questo buongiorno buongiorno mi senti buongiorno ciao se mi senti scrivimi in privato grazie scrivimi una lettera a meno che mi senti perfetto mi è andato per fk tutti fk stamattina mamma mia cazzo di follo lilfra benvenuto ciao tramite per entrare per entrare su impero dark canna vai fai punto esclamativo whitelist e vedrai danni io lo so che non c'è un minimo di massima per i malavimenti ma intendo per la raccolta no ragazzi guardate qua nel momento qua criminali 8 massimo criminali polizia massimo 10 poliziotti non ce ne stanno di più eh bene salvatore allora che kfps grazie per il follo benvenuto il nostro luca hml hd deve fare il vg seguendo la scaletta oggi di 11.52 grazie per il follo stefan8767 benvenuto sul canale alitrack io ho 19 anni 19 ne ho over 28 grazie per il follo benvenuto it's dark per entrare al minimo su impero di fare punto schemativo whitelist vedrai tutto lì punto schemativo whitelist ciao zione buongiorno grazie per il follo rosario hgg benvenuto ok vediamo se si orde si è svegliato signori magari riusciamo a fare una whitelist ciao si orde ci sei oh ci sei perfetto va bene si orde sono in live è un problema se facciamo la whitelist in live ok no vabbè dai mi raccomando però le console per le vogliettive twitch e ok iniziamo tranquillo tanto streammavo anch'io perfetto parlami un po' del tuo background cioè proprio in generale ti credo di fare tu nel server così parlami generico generico ok grazie per il follo il boy 2006 è sempre stato comunque un ragazzino sempre tranquillo non ha mai creato problemi né con genitori e tutta comunque con i suoi amici e tutto crescendo diciamo soprattutto con la nascita del fratello è stato un po' messo nel dimenticatoio grazie per il follo Daniele le scelte sono state sempre tutte appoggiate dai genitori da quel momento in lì e in là in poi diciamo si è fatto un po' le ossa da solo con il tempo poi ha iniziato ovviamente a lavorare e tutto quanto e a farsi delle amicizie finché appunto non ha scoperto che uno dei suoi diciamo migliori amici faceva parte di una di una fazione ok che dove fai nel tuo server nel server qua guarda in realtà sono molto tranquillo e l'obiettivo è quello di fare non so se si può dire così informatore comunque vengo cercato da persone vengo pagato per magari che ne so servono delle informazioni o delle cose nello specifico cosa è particolare sì non amo stare nelle cioè ci sono stato sono stato anche in altre città diciamo il capo il boss però effettivamente non cioè io per avere una fazione mia e tutto quanto dovrei cioè le persone mi devono seguire passo passo effettivamente sono troppo esigente quindi preferisco lavorare da solo o con due o tre persone ristrette in questo modo capito e ovviamente sono tranquillo che cerca di sparare il meno possibile quindi bene definizione di rdm e vdm uccidere uccidere senza uccidere senza motivazioni valide così a caso e uccidere cioè con con la macchina che stiamo investendo e tutto quanto ok secondo solo mi raccomando ragazzi da questo momento in poi c'è il pronostico mi raccomando in punti canale potete rischiarvela e scommettere se vince o meno e passa o meno la whitelist a questo momento potete utilizzare anche i punti canale se guardate 300 punti canali per suggerirmi la domanda e io la farò sicuramente se voi mi fate se voi riscattate i 300 punti per i 2.000 canali per le domande da farli per suggerirmi la domanda io ritorrompo diciamo appena finisce la domanda che le ho fatto io faccio la vostra ok quindi mi raccomando buongiorno VINX mi raccomando iniziare a riscattare punti se volete fare qualche domanda a lui pur se hai la motivazione non puoi prenderlo sotto esatto ecco già iniziano Brigo04 riscattato da una domanda vediamo ok dai Brigo aspettiamo la tua domanda per scrivere per fargliela sono in live in pratica con i punti canale se loro riscattano i punti canale ti fanno una domanda ok fatto così tranquillo tranquillo so benissimo no Brigo domande troll no se eserisci l'una di regolamento iniziamo con la definizione di metagame metagame è usare le informazioni non ottenute in game magari che ne so viste magari quando non c'è in game viste che ne so da una live non le puoi usare non le puoi usare soltanto le informazioni che apprendi in game e grazie per il follow a cazzo duro grazie per il follow per il mio tuo canale ok mi fai 5 esempi di metagame 5 esempi? ehm non so per esempio dai Brigo una domanda ok perfetto adesso gliela faccio non so magari respawno all'ospedale per dire ehm e a cazzo duro vai fammi la domanda appunto che ne so vedo da una live che hanno che ne so hanno arrestato un mio amico e quindi lo vado a prendere che ne so cerco comunque di di salvarlo oppure vedere la posizione di qualcuno che sta in game e raggiungerlo per aiutarlo a fare qualcosa boss cox grazie per il follow benvenuto ne so oppure ne so per vendetta personale vedere qualcuno con cui magari mi ha fatto un torto vedere in quel momento dove sta ok iniziamo una domanda adesso un esempio di no fear senza armi che ne so è quella di bricolo è scattata casco da un palazzo in un urlo non lo so oppure mi fa un altro migliore senza armi senza armi nessun tipo di arma che ne so coltellino non lo so senza armi che ne so magari ecco sto parlando mi catturano sto parlando uno contro sette otto magari non mi puntano armi non mi puntano niente e comunque non simulo paura vabbè sono un esempio un po' così però vabbè eh sì non so sì però lo so poi fammi la definizione di no fear definizione esatta sarebbe lo chiama un secondo sì cioè devo aspettare ok perfetto definizione di no fear dicevo appunto non ragazzi recupero troppo con la chat oddio sto parlando il pericolo cioè in inglese significa proprio tipo no pericolo nessun sì pericolo tipo non simulare la paura ok esatto non simulare la paura perfetto e quali sono le zone rosse le zone rosse sono ecco cazzo di raccolta e processo e basta credo perché che regole ci stanno nelle zone rosse allora ma regole cioè su quelle cose che posso usare sulle cose che posso usare le regole particolari ad esempio si può sparare la vista si ingaggia sempre e in caso di no fear si può sparare se non erro diciamo che si può sparare la vista nelle zone rosse ok e quali diciamo i punti droga quali sono allora marijuana e ah marijuana popolare marijuana cristalli di cioè la metanfedamina la cocaina e ne manca un altro sono certo questa cosa l'oppio e il crack l'oppio ah il crack anche esatto un'altra domanda le zone arancioni quali sono sono delle zone la domanda di cazzo duro l'ho fatta completamente le fazioni ora passiamo a quella di nelle quali diciamo ci sono cioè ogni fazione ne ha una e in queste zone ci sono dei punti penso di raccolta comunque dove si prendono degli additivi per poi processare credo comunque si processare la droga se non erro sono zero segnare il cartello ok giusto cosa può fare un medico diciamo cosa non può cosa può fare cosa non può fare un medico tipo in un'azione in generale il medico cos'è allora il medico ah intanto è una fazione neutrale e ok faccio non lo so intanto parto dalle azioni magari poi può fare un può fare azioni illegali il medico no perché è un lavoro whitelistato se non sbaglio in realtà si può farle fuori servizio può fare azioni illegali ok ok e comunque si stavo dicendo si no appunto non so stavo partendo da delle azioni però magari mi ricollegavo al medico insieme non può deve aspettare che finisce un'azione per rianimare quello è regolamento delle azioni però in generale sta alla fazione non chiamare i medici quello lì non è l'opa del medico cioè se il medico viene non è che deve stare presso quelli che fanno azione sono quelli che stanno sparando che non devono chiamare i medici ok può essere armato il medico no appunto non può avere solo il taser quindi si è un'arma può essere armato può avere solo il taser giusto? si certo ok e poi so che per esempio può decidere se non sbaglio se ricoverare un paziente o meno dipende dipende ok comunque mi ricordavo questa cosa nel senso che se dice tipo una persona che non può cioè che deve essere magari ricoverato dipende 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 sempre dalle azioni andiamo avanti power game definizione di power game sfruttare dinamiche di gioco diciamo che nella realtà non esistono cioè non si potrebbero fare ok mi fai tre esempi di power game senza il solito esempio dell'auto sulla montagna e la domanda nel microchips l'ho fatta portare più di 2 e 2 in questo caso nuotare per sempre all'infinito senza simulare stanchezza o cose e un'altra camminare che ne so no correre che ne so scalzo quando stanno su campi di droga o comunque su dei campi off road diciamo ok così poi e poi senza macchine ah che ne so magari prendere un corpo e non considerare il peso quindi cominciare a correre saltare cose simili magari quando lo prendi in braccio ok va bene sono tre e car kill car kill è probabilmente stare con la macchina sopra sopra un'altra persona dopo recuperi i punti cioè nel senso sfruttare quella meccanica lì per magari scopi personali ok square ht hitman io non ho mai tra l'evolimento ma è facile a wl ragazzi se per w è facile è bene la vita è pure boscox ha rischiato una domanda definizione di azioni di free roam ok eh ma i differenzi tra zone red e zone arancione non non esiste perché tanto c'è chiedendoli la definizione delle varie zone è già quella la differenza perché già con il momento in cui tu gli chiedi qual è la zona rossa qual è la zona arancione là già lui ti dice le differenze perché una non è che tipo è come dire zona safe o zona semi safe sono completamente due cose diverse cazzo duro definizione di azioni free roam regole di azioni free roam ecco in generale azioni free roam l'azione free roam è un'azione non aspetta fammi trovare parole perché lo so la definizione sarebbe cioè non sono quelle azioni tipo rapina in banca negozietto cose simili magari non so appunto per vendetta personale vado a prendere tizio che so che ha fatto questo e per fargli delle domande lo rapisco oppure attacco anche il semplice andare ai campi no andare ai campi non è a free roam no no? no cioè nel senso attaccare sapendo che stanno lì? no ok allora niente mi fermo mi fermo all'esempio di prima ok poi che tipi di armi si possono usare in azioni free roam se non sbaglio fino al definizione di azioni free roam in generale azioni free roam spiegami cosa sono 9 milimetri solo 9 milimetri no se non sbaglio anche smg possibile no tutte le pistole ok i caschi si possono usare non me lo ricordo sono sincero te lo dico non me lo ricordo questo no non si possono usare i caschi ok mi fai qualche esempio di power game senza usare i veicoli ancora? di nuovo? si di quella di Peppe l'ho chiesta oh madonna allora prima ti avevo detto cibo nuotare trasportare i medici camminare sul scalzi sui campi power game senza auto io non so se è power game perché so che si può portare soltanto un'arma a canna lunga l'ho letto ora pensavo penso sia sempre power game o fail rp non lo so ripeti? il fatto so che si può portare soltanto un'arma a canna lunga io non so se può fare fail rp o è un altro discorso magari portarne due portarne un'arma a canna lunga e portarne due è power game che tu dove la metti ok quindi è giusto è power game cioè è power game e fail rp al suo aumento comunque ok guarda così William Fox casca per il follo power game power game fruttare meccaniche che ne so appunto andare con una macchina normale fuori fuori strada quando non ci si potrebbe andare però no ma hai detto scusa senza auto e niente non mi vengono vabbè me l'hai fatti già alcuni dai secondo me sta leggendo no non sta leggendo si vede che è un po' anche un po' in difficoltà non legge non legge si fa per ora chiedo la tua un attimo solo fa fb rz chiedo la tua metagame c usa la radio in mare power game o fail rp fail rp o sbaglio si usa la radio in mare power game ma anche fail rp esatto chiedi in quale stazione in azione si può fare power game domanda tra bocchetto vabbè questa ragazza mi dice si può fare power game quando x y c'è lo dimando instant cioè non è bene non si può fare si è solo no non legge non legge adesso chiediamo un po' le droghe a parte delle droghe ok conosciai abbiamo detto le droghe nel server noi sei punti droga abbiamo detto no bene in quali punti droga si possono usare le armi automatiche allora se non sbaglio cristalli cioè la metanfetamina l'SMG è contata come non è contata come ar cioè come pistola quindi in teoria anche l'oppio che se non sbaglio era con l'SMG ok la cocaina e il crack se non erro no il crack no solo pistola ok crack solo pistola e quindi anche marijuana e marijuana popolare marijuana marijuana popolare crack solo pistola doppio metto e cocaina armi automatiche in generale che sia un SMG o carabine e ora ti chiedo il crack il regolamento crack ok della droga crack quanti criminali quanti voliziotti allora droga crack ah io sono sincero non me lo ricordo non me lo ricordo non mi ha spusato uno ma niente come? eeeh sono otto criminali dieci polizioni e ci attivanti ok si possono usare i caschi in crack no 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 caschi esatto e si possono usare solo pistole? eeeh e si l'abbiamo appena detto ah certo l'abbiamo appena detto ok perfetto chi se farà attenzione si ingaggia eeeh eh certo ok adesso facciamo le ultime domande poi vediamo eeeh l'elicottero si può usare in azione feroma eeeh si ma sempre cioè nel senso sempre tenendo conto del fatto che ci deve essere sempre una motivazione valida per farlo e comunque ci deve essere tipo il posto per atterrare c'è una che possa atterrare ok e rapina si può usare l'elicottero? eeeh rapina se non sbaglio no ok no si può sparare dal veicolo? eeeh si no si 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 può oddio ho avuto un attimo di enternamento no scusa no si non si spara dal veicolo no assolutamente no l'unico caso estremo in cui si può sparare dal veicolo è no fire estremo ecco come so quando c'è no fire estremo esatto e mi sono confuso con quello no fire estremo esattamente ehm quindi molto molto raramente solo in casi estremi vabbè nel senso vabbè tanto non sparo mai cioè io droghe cioè guarda sui campi e su e sui rapine non ci starò mai quindi vabbè forse è per quello che mi impiccia ancora ok ehm secondo eh ragazzi l'ultimi secondi per poter chiedere una domanda per poter riscattare con i punti la domanda e poi dopo e poi dopo chiudiamo la whitelist signori ehm faccio un'ultima domanda ehm un dipendente di un locale può compiere azioni illegali allora diciamo che l'abbiamo detto prima se non sbaglio all'inizio con il fatto del medico quindi educo che se non è in servizio non me lo ricordo per certo però vi sto contando la risposta di prima se non è in servizio si ok e un titolare di un locale eh boh stesso discorso giusto 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 ok in quale situazione in un'azione si può fare power game zacchi ttv grazie per il follow mi è venuto ci pensa pure nessuna giusto e nessuna stavo avendo paura che ci pensavi no eh no ma infatti eh ci pensavo simogino 2 grazie per il follow mi stava venendo l'ansia ho detto di un'esso mi dice qualcosa mi dice ok no perfetto e giusto da nessuna parte oh non ti sento più mi senti si mi senti si adesso mi senti eh certo mi senti eh bene allora come è nata la wild le seconda te ma guarda sono sincero probabilmente cioè io le parte la parte illegale in generale non è che non la so la so perché comunque è un annetto che faccia rp quindi probabilmente alcune cose le qualche punticino magari di dubbio ce l'ho ancora però alla fine non lo so essendo un anno che gioca rp spero bene non penso quanti anni hai tu? 25 25 anni ok e allora vediamo un po' ok allora 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 facciamo così la white list l'hai passata ok ok vabbè un attimo solo oh rina messina grazie per il ride buongiorno ciao ci manda messina ciao buongiorno ragazzi grazie per il ride messina grazie per il ride comunque ragazzi è passato quindi dg per lui che ha fatto la white list è passato quindi la white list l'hai passata ottimo lavoro grazie sono contento mi raccomando in questi primi giorni non fare azioni illegali ok mata guarda guarda ti metto i ruoli ecco qua ok grazie quindi mi raccomando non fare azioni illegali in questi giorni meno per 5 16 per una prima settimana ok ma sì sì tanto me punterò a conoscere esatto quindi buona giornata e divertiti benvenuto sul perro grazie grazie mille grazie buon lavoro ciao ciao grazie per lo spam ragazzi mi ricordo chi volesse entrare sul mio discord punto schermativo discord il link è lì e chi volesse seguire le live passate quindi volesse vedere le repliche quante volte vuole l'infinito se volete io carico poi tutti i video tutte le live su youtube così perché chi vuole puoi riguardarsele andando a guardare su youtube quindi punto schermativo yt per vedere diciamo tutte le live grazie per il follow giuframbo20 ugo trave moshking lordfr33man zonfi e fransspread10 benvenuti grazie per il follow a queste 5 persone grazie per il follow a mister beppe88 a m3 rt3t grazie per il follow benvenuti tutti quanti aizmanu4 aizformanu aizmanu ecco in generale grazie per il follow a tutti quanti ragazzi posso una domanda ti serve per caso lspdfr e va in conflitto con il fame impero non lo so non lo so non ho niente idea ah le 4348m se vuoi inventare straffer devi aprire un'utichetta e chiedere lì lì ti valuteranno ti manderanno qualcosa ti chiederanno lì per tutto io mi hanno fatto ore su rp rimangono ma certo che rimangono no non sono bot non sono bot perché sono pochi per essere bot grazie salvatore grazie mille sono contento che pensi così vediamo questo qua leggere regolamento madonna 30 e 12 non sono bot perché sono sono pochissimi e mister master beppe non è un bot infatti sono tutti mi sa quelli di messina sono mi sa sono i ragazzi di messina mi sa 20 anni 2 anni questi sono bot che sono arrivati ora ora sono arrivati i bot come li hai chiamati eh porca miseria a meno che non sono bot non lo so comunque che cazzo 08 magic twitch tobus 24 minibam tutta questa gente qua ecco forse sono bot non lo so non ne ho idea che comunque lascia andare l'ideale tanto per ora non sono sicuro no l'oros love di connetta è anche qualcuno che sta in live a guardare quindi non non so oh gli altri si sono bot forse qui sono bot qui infatti gli ultimi gli ultimi sono dei bot mi sa gli ultimi che sono arrivati vabbè però poi guarderò poi poi guarderò comunque grazie per l'abbonamento a andreox grazie mille è fratama quello quello che ha fatto la sub è fratama si si è nostro simpson in rp il nostro esperto coordinatore simpson io lascio andare tanto lascio andare gli altri perché tanto sono pochi tra poco finiscono grazie mille comunque per la sub veramente andreox sono tante 340 ore sul 5M boh dipende beh dipende perché se le hai fatte in un anno sono poche se le hai fatte in un mese sono tante mi piaceva l'emote perfetto ora puoi scrivere promosso 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 spavare promosso quando ci sta parlando ci sta oh grazie per i 3 bit mister beppe grazie mille per i 3 bit grazie mille per i 3 bit davvero ma come faccio a vedere le ore it's manual vai su steam profilo e poi dovresti guardare source sdk base 2007 si chiama e lì vedi quante ore hai fatto io non lo so qui sono tutti i bot che stanno arrivando me li stanno mandando 5 a 5 solo per il mio fastidio mamma mia 4871 ore quasi 5k tipo nicolas 14171881 sì comunque ivan sencio forse no forse ah no forse no sono sono spettatori forse sono comunque persone che stanno guardando perché comunque noto che alcune persone appaiono nella lista degli spettatori quindi non tutti sono buoni mi sa che mi stanno inviando misti bot e misti color war veri quindi non riesco più a capire un cazzo comunque grazie a tutti per il follow se siete veri in caso se siete bot vi elimino dopo quindi grazie mille a tutti quanti in caso io vi ho ringraziato oh attenzione c'è un ragazzo che è stato rimandato il 30 dicembre del 2020 sì l'ho visto anch'io ecco velocity yt arriva tra un po tra due tra due alert divieni anche tu velocity io ho 3486 due anni eh reciccino sono tante sono tante comunque alla royale buongiorno comunque velocity yt velocity ti grazie per il follow ti ringrazio dato che me l'hai fatto capire che non sei un bot ma neanch'io lo so allora il vero bot sei tu ah addirittura 872 ore in 8 mesi in EP com'è beh 800 stando dove 8 mesi ci può anche stare sono abbastanza nella media se non è uno che sta tipo più di 6 ore al giorno è andabile nel senso comunque mi stanno mandando bot tipo un po' una alla volta apposta per darmi fastidio sai sì l'ultimo esempio bondlex è un bot come come si chiama bondlex bondlex ah no bondlex non è un bot ha fatto il profino ha fatto anche il provino no perché non lo leggevo tra la lista degli utenti delle persone che stavano in chat e quindi ho detto cazzo allora è un bot grazie per il follow comunque grazie per il follow in caso non siete bot siete bot grazie per il follow ciao vinks ciao vinks la tua voce è meglio di quella di Ade di quando ruola ma no non dite queste cose mamma mia come sei voglia di vivere stamattina sì guarda mi sono so poco mi sono andato 4 ore oggi alle 11 notte oddio io sono allora qual è il punto che io alle 13.45 in punto proprio io devo uscire di casa quindi ho 45 punti esatti per pranzare cambiarmi e uscire io non so se riesco a fare una whitelist ora no c'è qualche bastardo che mi manca mi manda i bot mi sa mi manda i bot ragazzi non è possibile no no mici 22 it grazie per il follow sei vero tu tutti questi di qua che hanno i bot non hanno un cazzo da fare però no c'ho un numero c'ho un numero di spettatori più alto della norma ora comunque dopo il raid di Messina c'ho comunque un numero di spettatori più alto della norma però comunque sono un numero spropositato di follower in più però capisci quindi vero sì è vero 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 mixto non ti si sente comunque ragazzi io vorrei fare l'ultima whitelist però per me anche forse non riesco a finirla perché io all'eventrice 20 io stacco quindi mi sposto sto mici 28 e poi stacco ok vai spostalo intanto vedo per cosa è stato rimandato ciao mici per regolamento 4 ore ciao mici sono in live buongiorno è un problema? dipersi in che senso? diciamo si sente la sua voce solo eh vabbè se vuoi fare la whitelist solo o non in live ti metti in attesa ti sposta uno degli altri due staffer che sono sotto non c'è problema no vabbè però cambia nulla ma allora vai pure in attesa ti sposta un altro staffer adesso ok a posto niente ciao purtroppo capita ogni tanto grazie al follow gli ultimi canali del follow benvenuti sul canale ora si è placata la situazione ok lo so ragazzi non si sente lo so ragazzi ve l'ho detto quando non sentite vuol dire che è muto franci cavi fai la whitelist a sto mici 28 per favore che purtroppo non ha voluto farla nel wild live ma solo io c'ho sonno guarda ti dico stamattina mi sono sviluppato anch'io con un sogno un sogno incredibile ma che ore sei andato a dormire? e alle 2 qualcosa 2.20? ok io alle 5 del mattino vabbè a far pure ma alle 5 come fate ad andare a dormire così tardi? ma perché ma io non riesco neanche io mi hanno trattenuto vabbè ragazzi mi devo vendicare un attimo di una cosa un momento mi devo vendicare ma mi bagno ragazzi no franci cavi edf franci cavi a posto a posto la vendetta è stata adempita ma boh ragazzi io sinceramente adesso io ora devo andare a mangiare se non sto è il dios non ce la facciamo a farlo mi dispiace dover ritorrompere qui la live adesso intanto vi ringrazio tanto per stati con me ringrazio ringrazio server gta server gta punto esclamativo server gta se volete vedere che serve il gioco in generale fate punto esclamativo io ho fatto punto esclamativo impero direttamente anderex per la sub e beppe 88 per i 3 bit grazie mille a tutti quanti ciao ciao vinks ciao messina ciao ciao mi lascio da nadina ragazzi comunque buona giornata proprio buona mi raccomando buona giornata da nadina scrivete a tutti ti saluta danni ti saluta danni ciao abbiamo un seminota spammate tutti ti saluta danni ti saluta danni mi raccomando eh 3 da 1 tutti i spam ti saluta danni ciao